Da dove veniamo? Chi siamo? Cosa diventeriamo? Abbiamo delle tradizioni che raccontano le nostre tradizioni. Mia nonna da piccola in casa mangiava polenta e picasù, una polenta in mezzo al tavolo e appeso sopra un baccalà fumicato. Ciascuno ne prendeva un boccone e lo sfregava sul pesce per insaporire. Viaggio. La nostra è sempre stata una terra di passaggio e la gente per secoli è passata da qui in cerca di fortuna e ancora più arrivata cercandola. Scoperta. Siamo intraprendenti perché siamo curiosi. Gusto. La nostra identità è figlia dell'incontro e dello scambio. Contaminazioni. Grazie. Grazie. Grazie.